Per il nostro risveglio ho creato un pacchetto speciale per te. Il mio romanzo, cartaceo, ebook, versione e-pub o mobile per kindle, audiobook letto personalmente interamente da me e una meditazione speciale creata appositamente per il risveglio della nuova umanità. Che utilizza una tecnica molto in uso negli Stati Uniti, che è quella delle affermazioni subliminali udite a un volume non percepibile dalla coscienza e quindi non filtrabili dalla coscienza con le sue paure e le sue convinzioni limitanti, ma queste affermazioni di trasformazione penetrano all'interno e possono operare e possono agire per un risveglio migliore, davvero felice, gioioso, fiducioso, creativo e in sintonia col creato. Perché tu possa creare te stesso, la tua felicità, la tua vita e perché tutti noi possiamo essere in sintonia col creato e possiamo creare una nuova umanità in una nuova terra, bonificata dal nostro amore.